Io veramente, può darsi che abbia anch'io delle bollette da pagare, mi è successo anche l'altra volta, io ho talmente, non dico ma io ho trascurato la mia famiglia, ho trascurato la mia vita per questo comune, non so se valsa la pena, sono stato l'unico sindaco che passava la sua vita dal lunedì alla domenica chiuso qua dentro e a volte non curavo i miei interessi, quindi mi dimenticavo a volte di pagare le bollette ma l'ho sempre pagata alla fine, quindi sicuramente se ha dei debiti non è colpa mia. Non soltanto